benvenuti in questa nostra prima pillola dedicata a javascript è un piccolo format che ho sviluppato che si allinea con quello che che il videocorso di react che trovate su su demi in cui cerco di andare un po spiegherà alcuni concetti che lì non ho avuto il tempo di spiegare perché erano più legati a delle conoscenze precorse di javascript in particolare i six piuttosto che a react quindi ho creato il giro di creare questa questa piccola playlist in cui andremo a toccare tutte queste cose che non sono così scontate almeno per me sono sono di default ma sono reso conto che per chi inizia per chi è veramente un principiante sarebbe davvero utile per un posto in cui trovare tutte queste informazioni quello che vedete di strano quindi queste cose verdi arrivano dal fatto che io stia utilizzando un'estensione che si chiama cuocca js che permette appunto di non dover andare nel browser per vedere cosa stai logando o dover lanciare il comando nord e il file che uno stato in cui sta scrivendo ma basta appunto avere come in questo caso console dot log e poi andare in questo caso nome eliminerà direttamente appunto igor se invece mettessi direttamente igor lui va a darmi quello che è l'oggetto la prima pillola sarà appunto dedicato a una di quelle cose uno di quei processi che vengono svolti con più frequenza sia all'interno di realtà ma comunque all'interno del linguaggio javascript il six ovvero la decostruzione di un oggetto che ci permette di accedere in maniera più semplice a quelli che sono i valori all'interno di un oggetto anche quando sono pesantemente innestati ovviamente questo perché è importante perché uno ci semplifica la vita perché in questo caso ho bisogno di accedere manualmente a questi valori e farlo in questa maniera per accedere ai valori presenti nell'oggetto igor e se pensiamo come generalmente rispondono le api che rispondono con degli oggetti ecco andare davvero una scomposizione manuale di questo tipo non è sicuramente la cosa più semplice e anche soprattutto la più veloce ed intuitiva la soluzione qual è innanzitutto togliamo questo console log di cui non abbiamo momentaneamente bisogno vado a commentare la nostra scomposizione manuale e andiamo a vedere quella che è la soluzione e che cosa è la decostruzione dell'oggetto la soluzione è quella di andare a punto decostruire l'oggetto utilizzando quelle che sono le parentesi graffe dichiarando davanti const e andare ad accedere ad ognuno di questi valori semplicemente passandoli all'interno di queste parentesi graffe piccola nota margine se stessimo cercando di decostruire un array invece di avere le parentesi graffe avremo le parentesi quadro perché sono va a indicare da che tipo di oggetto perché anche gli array sono oggetti in javascript da che tipo di oggetto stiamo andando a decostruire per dare informazioni a javascript di che cosa stiamo combinando ma torniamo a noi quindi richiediamo const e poi passiamo le chiavi dell'oggetto alle quali vogliamo andare ad accedere quindi nome cognome e città ad esempio uguale dicono se adesso noi andassimo a console o gara un soldo log il nostro nome il nostro cognome la nostra città vedete che otteniamo tutte le nostre informazioni e questo è molto molto importante vedete quanto è più veloce e anche quanto comunque è più chiaro possiamo anche andare a dare degli alias ad alcuni valori che noi andiamo a decostruire anzi a tutti i valori che andiamo a decostruire mettiamo caso appunto che avessimo un'altra costante che si chiama città che corrisponde a napoli ovviamente ci viene segnalato che c'è un errore che il resto del codice non viene eseguito perché non possiamo avere due variabili o due costanti che hanno il medesimo nome allora possiamo andare ad assegnare un alias alla nostra nel all'interno della nostra di costruzione quindi città la chiameremo città di igoro vedete qua adesso abbiamo nome con una città che corrisponde a napoli sia quando assi a dargli città di igoro otterrei brescia che appunto la città di igoro perché noi adesso per il nostro da adesso in poi per il nostro andare di costruzione del nostro oggetto non facciamo più riferimento a città ma a città di igor se qua andassi a cancellare città di città come costante e ritornarsi ad avere il console log di città avere città is not defined ok quindi da questo momento io non posso più accedere a città per indicare ciò che ho decostruito dal mio oggetto torniamo anzi non lasciamolo così così da avere un alias città di igor e ovviamente a questo punto voi vi starete ovviamente vi starete chiedendo ok ma per quelli che sono più innestati che cosa posso fare ovviamente posso accedere anche a quelli che sono valori più innestati dio se in questo caso andassi a facciamo questo gioco qua andassi a inserire qua anche parenti come vedete ottengo poi tutta questa lista di informazioni quindi praticamente un altro oggetto pesantemente innestato io ovviamente vorrei poter accedere meglio a questi parenti io ho diverse opzioni o vado a proporre una successiva decostruzione dell'oggetto parenti quindi vado a dire che dire che consta fratelli cugina e nipoti sono uguali a parenti e a questo punto se andassi a consologare questi tre signori che adesso per semplicità faccio un copia e incolla console dot log di questi tre signori non vedete ottengo tutte le informazioni di cui ho bisogno e volendo possa andare a di costruire ancora di più per di costruire nipoti e questo si può fare anche all'interno della nostra decostruzione indio qua vado a porre i due punti apro in questo caso di nuovo le graffe perché sto decostruendo un altro oggetto e vado a dirgli che io voglio maggiore e minore ovviamente adesso nipoti non è più definito ma se volessi vado a dargli maggiore minore e come vedete ottengo tutte le informazioni di cui ho bisogno ovviamente potrei farlo tutto in un passaggio e adesso andremo a fare esattamente quello è semplicemente prenderemo questa roba qua apporremo i due punti apparenti andremo a inserire questa roba noteremo una formatazione automatica un pochino meno orribile parenti non esiste più e adesso ne andiamo a consologare proprio questa roba quindi cancelliamo questa cosa qua cancelliamo anche questa decostruzione anzi non ve la lascio piuttosto non cancello ma commento e andiamo a consologare semplicemente tutta questa roba e come vedete abbiamo ottenuto tutti i nostri valori in unico in unica decostruzione questo è molto importante io sinceramente dipende quanto le cose vanno ad essere innestate in questo caso andare a capire effettivamente che cosa abbiamo combinato da dove le cose arrivino non è così super intuitivo ecco io preferisco una scomposizione progressiva che mi permetta di andare a capire un po meglio cosa stia cosa stia succedendo e che sia comunque più leggibile per tutte quelle persone che non sono me stesso come questo può esserci ancora più utile e come questo può collegarsi a are act perché noi possiamo interagire anche con le funzioni in questa in questa maniera se io andassi a definire quella che è una funzione che lo farò qua sopra così che abbiamo tutto sott'occhio si andasse definire quella che è una funzione ecco che function info persona un po persona e poi gli andassi a passare come parametro persona io qua semplicemente avrei un console.log di persona come vedete sia qua vado semplicemente a passargli un info persona edo igor mi stampa igor io posso fare questa scomposizione anche sia all'interno della funzione quindi semplicemente andare a prendere questa cosa qua e sostituirla a quello che è persona andando a togliere il commento al posto di igor vado a posizionare persona ok e poi posso andare tranquillamente a console ugare le informazioni che ottengo da quella definita persona come vedete ottengo igor carchia e brescia perché sto chiamando la mia funzione qua sotto ma io questo tipo di decostruzione come si vede spessissimo all'interno di react la posso andare a fare anche direttamente nel all'interno del parametro della mia della mia funzione invece di passare come parametro persona vado a direttamente quella che la scomposizione la decostruzione dell'oggetto quindi li passano questo come come parametro e come vedete io ottengo lo stesso risultato volessi appunto nuovamente innestare ancora di più tutto quanto mi stare tutto quanto è andare a dire che parenti uguale a questa roba qua vostra c'è una parentesi di troppo ok parenti e tutta questa roba qua e se io qua andasse poi a console ugare fratelli cugina maggiore minore vedete ottengo tutte le mie informazioni ovviamente questo questo parametro è molto è molto pesante però immaginatelo all'interno di quelli che sono i componenti di react che comunque sapete che prendono quei parametri hanno bisogno di quei parametri allora rivisto in quel tipo di situazione ecco che assume molto molto più senso allora